Si chiama Anna Dovgadiuk, è una donna di vent'anni di età e pensate che si è definita come una attivista di tipo sociale. La donna pensate che avrebbe avuto la idea, o meglio la massana idea, tengo a specificarlo che è una mia opinione, di andare a gettare la candeggina nelle parti intime, nei gioierli di famiglia degli uomini, lì dove non batte il sole. Una scelta coraggiosa, una scelta che io definisco strana, imbarazzante, per certi versi assurda, ma che effettivamente la ragazza ha deciso di compiere. Infatti è per lei una forma di protesta molto particolare. Si tratta di un mix di acqua e candeggina, lo ha fatto facendosi filmare nel web nella metro di San Pietroburgo in Russia, il video è diventato viralizzato. La facciulla ha anche Instagram, in cui posta anche delle foto piuttosto esplicite, piuttosto hot, dal sapore tipicamente bollente. Ma se la va a prendere anche con l'autorità del paese, la Russia, la quale appunto è l'autorità, lei sarebbe convinta che il manspreading appunto venga combattuto e contrastato. Vi ringrazio per l'ascolto, che scelta incredibile quella delle ragazze in questione, che non si vergogna ma anzi va avanti per la sua strada. Diretta al punto. Un saluto, grazie, al prossimo video da Narratore Italiano.